Musica Presentata in regione l'undicesima edizione del Festival del giornalismo culturale di Urbino al Via questo fine settimana. Tema di quest'anno è il futuro del giornalismo culturale nell'era degli schermi. Riteniamo che molto della informazione culturale stia passando e passerà sempre di più dagli schermi. Che però ci piace sottolineare che non è morta la carta. La carta potrebbe avere anche una vita ancora più feconda di quella che ha se gli editori dessero un giusto peso ad alcuni dati che sono apparsi. In fondo i ragazzi non è vero che non leggono sulla carta, leggono libri anche sulla carta. Anzi, quando si parla di romanzi, per esempio, prediligono la lettura su carta. Cioè la lettura lunga viene fatta su carta. Quindi la carta è ancora buona vita. Però è vero, tutto passa ormai, la maggior parte dell'informazione, anche quella culturale, passa sugli schermi. Una dimostrazione è BookToker, un aspetto della piattaforma TikTok che in qualche modo promuove libri. Li promuove soprattutto alle nuove generazioni. Dopo l'anteprima di giovedì sera, esperti, giornalisti intellettuali e scrittori approfondiranno questi temi nel corso degli appuntamenti del weekend. Venerdì 6 alle 21, nella Sala del Trono, si sarà questa intervista spettacolo in cui questi due grandi, importanti protagonisti della cultura italiana, Serena Dandini e Giorgio Zanchini, ci racconteranno queste croniche dal Paradiso. Poi si riprende il giorno dopo, sabato 7, con la Lectio Magistralis di Rosella Postorino. Rosella Postorino è una scrittrice importante nel nostro panorama italiano. Lei farà una Lectio Magistralis piuttosto curiosa. Avremo tanti ragazzi che la seguono, che saranno presenti quel giorno, perché lei leggerà un suo racconto. E poi anche in questo caso ci sarà un dibattito sulla lettura, coordinato e diretto da Giorgio Zanchini, che è direttore assieme a me di questo evento. E da lì ce ne sono tante. Si parlerà anche di serie TV, perché i ragazzi ci hanno detto che per loro lettura è anche leggere le didaschalie tradotte, i sottotitoli delle serie TV, soprattutto quelle coreane, che loro amano moltissimo. Quindi ci sono tanti avvenimenti. E poi si chiuderà con due panel piuttosto interessanti. I giornalisti culturali verso i giornalisti generalisti. Cosa succederà? Lo vedremo domenica pomeriggio.